... Martedì 26 luglio 2022, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 19. Come sempre alle 7 del mattino puntuale in diretta c'è la rassegna stampa, il commento della stampa del giorno, occhio ai giornali che come sempre inizia con il santo del giorno, oggi in realtà festeggiamo Gioacchino ed Anna, sono i genitori della Beata Vergine Maria così come ci ricorda la tradizione, l'antica tradizione cristiana. Il sole è sorto alle 5.50 e tramonterà alle 20.39 e adesso andiamo a vedere prima del tempo con Giacomo Vitali il regista questa mattina. Allora andiamo a vedere questa webcam che ci apre questa finestra incantata, ancora calda, soleggiata sulla spiaggia di Baia Flaminia a Pesero. E questa è la situazione in diretta, in tempo reale, con queste che sono ormai webcam straordinarie in alta definizione e che ci danno addirittura tutti questi bei particolari che anche voi da casa, grazie all'alta definizione di Fano TV, all'HD potrete vedere certamente. Guardate che già c'è gente in acqua che si rinfresca e davvero in questi giorni, se non si è in un posto dove c'è un po' di aria condizionata, per il resto si sta bene, come si dice, soltanto appunto con i piedi a mollo. Allora vediamo se invece oggi cambierà il tempo, queste sono le previsioni della protezione civile e delle marche e qualcosa succederà soprattutto sull'arco appenninico, ma insomma nel pomeriggio sono previsti rovescio temporali sparsi nelle zone montane e alto collinari, localmente saranno anche temporali di forte intensità, quindi attenzione soprattutto se avete deciso di fare delle passeggiate per rinfrescarvi nelle zone interne. Quindi non si escludono gli isolati e brevi rovesci fenomeni anche nel resto della regione, tutto questo ovviamente lo scopriremo soltanto, come si dice, vivendo oggi pomeriggio. Vedremo domani invece ancora questa sante e benedetta pioggia che però, stando alle previsioni così, escluderebbe la provincia di Peso Urbino, ma speriamo di no, poi chiaramente tutto dipenderà un po' dal microclima. Allora domani rovescio temporali sparsi, nella seconda parte, quindi nel pomeriggio, localmente saranno anche di forte intensità e questo purtroppo è lo scotto da pagare quando si sta per troppo tempo senza piogge, senza perturbazioni, quindi con il caldo che si accumula, il suolo in maniera impressionante, poi appena arriva un pochettino di freddo, la base a freddo, pum, succede il finimondo. Speriamo di no e che tutto si risolva in poco tempo, senza danni. Tant'è che già giovedì, come vedete, il sole tornerà a esplendere sulla costa adriatica, sulla riviera adriatica, d'eccezione, vabbè, della parte sanbenedettese, ma credo che, insomma, per il resto dovrebbe tornare tutto a posto, anche se domani non si escludono brevi ed isolati fenomeni pomeridiani, però limitatamente ai monti sibillini. Per quanto riguarda i prossimi giorni, quindi parliamo di venerdì, il tempo sarà stabile nella giornata di venerdì, appunto, e poi condizioni di instabilità previste per il fine settimana. Infatti qualche sito, già qualche applicazione, qualche app metteva ancora un po' di cattivo tempo con pioggia sabato e domenica. Inutile dirvi delle temperature, guardate Ascoli Piceno oggi alle 2 del pomeriggio, 35 gradi più o meno, insomma, ecco, quindi sono queste le temperature che ci attendono anche per la giornata di oggi, insomma, intorno ai 30 gradi. Bene, allora, cari telespettatori, oggi, questa mattina, vi dirò chi vincerà le elezioni politiche il prossimo 25 di settembre e vi darò anche un aiutino, così potrete arrivarci anche voi. L'aiutino è questo. Due esponenti di spicco del Partito Democratico hanno deciso di non scendere in campo, vale a dire Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, e la Mancinelli, sindaco di Ancona. Loro due hanno rinunciato e hanno detto no, non partecipiamo, mentre tre persone del centrodestra, te politici del centrodestra, hanno già le valigie pronte. E queste tre persone sono Guido Castelli di Fratelli d'Italia, Mirko Carloni e Giorgia Latini, entrambi della Lega. E allora, questo è l'aiutino, poi vi dirò chi vincerà appunto il 25 di settembre. Allora, qualcosa di grande, qualcosa di grande per Valentino Rossi, questa è la fotonotizia del resto del Carlino di questa mattina, che poi è la stessa del Corriere Adriatico. Entrambe le redazioni hanno scelto ovviamente il maxicasco che è stato inaugurato ieri in un quartiere pesarese, la gioia di Rossi per il megacasco, il delirio dei tifosi. Vedete Valentino che pose insieme ad alcuni volontari della protezione civile, i tifosi che in piazzale d'annunzio hanno già iniziato a scattare fotografie, selfie. Centinaia per questa inaugurazione di questa maxi opera, a lui dedicata il doctor, questa città dice la mia seconda casa, riferendosi ovviamente a Pesero, il sindaco Ricci un omaggio che gli dovevamo. Mentre il titolo d'apertura del Carlino questa mattina è un virgolettato, come vedete, quindi sono dichiarazioni di Joe Blair, ex PV della VL, quindi giocatore di basket, che ha accusato in un post sui social i poliziotti che lo hanno fermato. Io ho controllato perché sono nero, chiesti i documenti solo a me e a mio figlio perché siamo di colore. Poi la strage di Corinaldo, la protesta dei legali delle vittime per una notifica che manca dunque il processo, si ferma per tre mesi, ora praticamente è tutto rallentato. Poi sempre dalla prima del Carlino di Pesero si parla di mala sanità, gli esami impossibili, giorni al telefono al CUP, al centro unico di prenotazione, e poi la visita in Romagna, la storia di una fanese. Poi sotto basket tra Morelli e VL, matrimonio in vista, mentre da Fano l'appello di Seri, Seri sindaco, sinergie con marche multiservizi, il sindaco infatti invita i comuni, i soci di Aseta a fare un fronte unico e dice serve dialogo. Andiamo a vedere adesso invece il Corriere Adriatico. Ecco la fotonotizia che dicevamo con il megacasco più grande, Valentino Rossi che posa con il sindaco di Pesero all'inaugurazione di questa opera, dove è esplosa poi la festa, mentre il titolo d'apertura è sulle politiche, la rinuncia dei sindaci verso una linea comune del Lanci, Lanci è l'associazione nazionale che raggruppa i comuni italiani, che dice non possiamo lasciare le nostre città commissariate troppo a lungo, Ricci di Pesero e Mancinelli di Ancona fuori dal Valzer delle candidature, ide anche Fioravanti e Calcinaro. Di questo parleremo tra poco all'interno della rassegna stampa. Intanto ieri c'è stato un vertice, un incontro a porte chiuse, quasi segreto che si è preferito tenere all'interno delle stanze di Palazzo Raffaello, la sede dunque della Regione Marchi. Ieri il Presidente Acquaroli e il suo cerchio magico, scrive Marinangeli sul Corriere, hanno incontrato il capo delle relazioni istituzionali di Amazon per fare il punto sul progetto del megapolo logistico da realizzare nell'area dell'interporto di Iesi. Poi sotto anche qui in primo piano, fermato perché sono nero ma la polizia riprende Blair, risponde con il questore Clemente che dice si tratta di normali controlli, i colleghi sono stati corretti, l'ex cestista Pesaro si sfoga sui social, il messaggio poi diventa virale. Adesso, allora, andiamo a leggere, vi chiedo qualche minuto in più di pazienza, perché comunque, visto che si vota finalmente e c'è poco tempo, insomma adesso, anche se qui non è che cambia tanto, ma insomma per capire un po' anche l'area che tira nelle Marche e soprattutto scherzando, ovviamente vi ho detto all'inizio che vi avrei anticipato il vincitore delle prossime politiche, l'area vincitrice delle prossime politiche, beh, si fa presto a capire, siccome i politici sanno già tutto in anticipo, perché hanno sondaggi, contro sondaggi, sanno benissimo, anche se poi te le tengono nascoste queste cose, sanno benissimo come andranno le cose, qual è l'area che tira, allora, vediamo che cosa è successo in queste ultime ore. Allora, è successo che Ricci, come dicevamo, e la Mancinelli hanno detto non è l'ora di candidarsi e si sono, tra virgolette, rifugiati, così come altri del PD, che non stanno facendo nulla per candidarsi, anzi qualcuno dice io non ci penso nemmeno scendere nel lagone politico, quindi sanno benissimo che non hanno molte chance, insomma, si nascondono, tra virgolette, si nascondono dietro questa normativa, dietro questa giustificazione che dice, beh, insomma, siccome la normativa prevede, infatti, che una volta eletti, poi il Comune, guidato dal Sindaco, appunto, eletto, vada sotto commissariamento, se questa norma, insomma, non è il caso di lasciare senza sindaci per tutto questo tempo le città. In realtà, se andiamo a fare i conti, insomma, tra che la giunta decade, dopo 20 giorni, venga nominato dal prefetto a un commissario, eccetera, eccetera, passano più o meno, ci vorranno sei mesi, perché poi si andrebbe a votare nella primavera del 2023, quindi possiamo intendere più o meno aprile, ecco, all'incirca, quindi passerebbero cinque, sei mesi. E quindi declinano, dopo questo ragionamento, declinano l'invito ad ascendere in campo per una poltrona, uno scranno parlamentare a Roma, sia Matteo Ricci che la collega Valeria Mancinelli. Ma la stessa cosa anche altri sindaci, come Marco Fioravanti, ad Ascoli Piceno, e Paolo Calcinaro, affermo che avevano fatto già sapere di non pensarci nemmeno a calarsi in questa competizione. Come dire, non ci sono speranze. Tolta l'equazione dunque Ricci e Mancinelli, per il PD, i nomi forti dei collegi del Nord sono quelli del consigliere regionale Antonio Mastro Vincenzo Berancona e della deputata uscente Alessia Morani, per Pesaro. Certamente quest'ultima con qualche difficoltà in più eventualmente ad essere rieletta, insomma, soprattutto per come ha, per le cose che ha detto nel clou della pandemia, anche riferendosi per esempio ai Novax. Dalla parte invece del centrodestra, se Paolini, quindi parliamo di Lega, è quasi certo che non verrà ricandidato, più sfumata è la posizione di Pazzaglini e Patassini. In casa Fratelli d'Italia invece, che sarà con ogni probabilità l'unico dei grandi partiti ad aumentare il numero degli scranni occupati, vedete, zitti zitti, tra le righe lo dicono, ma sanno tutti benissimo che l'exploit sarà quello di Fratelli d'Italia, tant'è che già i grandi giornaloni, come Repubblica e altri giornali che spingono a fatica, ma spingono il centrosinistra, stanno facendo di tutto per ricominciare a infangare, a partire dal nome, persino la Meloni, sono arrivati persino a dire che la M del cognome Meloni assomiglia alla M di Mussolini, insomma, tanto per dirvi un po' che aria che tira, insomma. in casa Fratelli d'Italia comunque c'è Antonio Baldelli in pole position, che è il fratello dell'assessore regionale Francesco, poi c'è il nome forte anche dell'assessore regionale Guido Castelli, che nel sud della regione vincerebbe facile sia all'uninominale che al proporzionale. Questo e altro, altri dettagli in questo articolo interessante del Corriere Adriatico a pagina 2. Ma a pagina 3, attenzione, attenzione, c'è il Toto Giunta. Ecco, quindi come vi dicevo ci sono tre assessori che sono tre assessori di peso che hanno già le valigie pronte per andare a Roma. Allora, il titolo è questo, il Toto Giunta, Ciccioli, Leonardo e Biondi inizia per il turnover. Quindi il cambio di turno sostituirebbero infatti gli assessori latini Castelli e Carloni in caso di elezioni a Roma. Nella giunta dunque di Mezzata vanno riempite queste caselle, queste tre caselle che dal 25 settembre potrebbero restare vuote. Orfana, la giunta orfana dei due pilastri Castelli e Carloni risulterebbe dunque azzoppata ed indebolita. Secondo dunque servono dunque dei nomi di peso per sostituirli e al settimo piano si stanno facendo tutte le valutazioni del caso. Pare anche, stando a questo articolo di, sempre della Marina Angeli, sembra che Acquaroli in un primo momento avesse tentato di frenare questa diaspora, cioè di frenare questi tre politici colleghi di giunta gli avrebbe fatto capire che sarebbe meglio se fossero rimasti lì piuttosto che andare a Roma. Però, a quanto pare, appunto, secondo i sondaggi c'erano e ci sono forti possibilità di vincere e in qualche modo ecco che è stato impossibile trattenerli. E dunque per Acquaroli si apre uno scenario un po' così così, un po' difficile. E anche perché adesso c'è la questione anche geografica, geopolitica che per esempio vede Ancona reclamare un assessore che sia espressione del territorio. Allora, chi potrebbe entrare? Vediamo un po', ci sono dei nomi. In primis la neocoordinatrice di Fratelli d'Italia Elena Leonardi, Fratelli d'Italia ovviamente Marche, Elena Leonardi. A lei addirittura potrebbe andare la delega alla sanità mentre l'attuale assessore alla sanità Filippo Saltamartini potrebbe ereditare quella allo sviluppo economico che adesso è di Mirco Carloni. O poi sempre nel contesto delle quote rosa perché c'è anche questo aspetto è uscita dal cilindro anche la carta Chiara Biondi Lega che essendo del fabrianese risponderebbe alle richieste appunto dell'Anconetano. Poi c'è l'ascolano Andrea Antonini molto stimato all'interno della maggioranza e nella rosa dei nomi che hanno sfiorato diciamo un assessorato nel 2020. Poi c'è l'incognita Carlo Ciccioli che è attualmente capogruppo di Fratelli d'Italia. Ora perché l'incognita? Perché il partito starebbe pensando di candidarlo alle politiche però lui dice no mi piacerebbe stare in regione così realizza un sogno eccetera eccetera insomma un po' così e mentre loro i politici stanno lì a pensare come riuscire ad arrivare a Roma preparano le valigie già vedono hanno gli occhi con i dollari dipinti sulle pupille noi poveri Cristi comuni mortali facciamo le file in farmacia per evitare quarantene lunghissime dentro casa dove sono 40 gradi all'ombra all'ombra della cucina ed ecco il titolo del Corriere Adriatico mille tamponi fai da te al giorno ma zero vaccini ecco dunque il si legge in questo titolo una certa tristezza del Corriere questa mattina che ieri aveva lanciato una notizia insomma per mettere in guardia tutti dal Covid oggi invece purtroppo il Corriere mestamente ci dice che si fanno mille tamponi al giorno fai da te quindi ma zero vaccini ecco quindi il Corriere è triste questa mattina ma ci dice anche che ci sono 1430 persone in quarantena e in isolamento solo in provincia di Pesorobino con 1172 positivi nonostante l'ondata estiva di contagi la spinta sulle quarte dosi di vaccini sembra essersi affievolita ecco e il presidente di Aspers quindi il presidente delle farmacie comunali di Pesaro Luca Pieri che vedete in questa fotografia dice in questo periodo facciamo 70-80 tamponi a farmacia quotidianamente dunque moltiplicato per le nuove farmacie del territorio pesarese parliamo di oltre 700 test al giorno e non è tutto sta andando molto forte la vendita di tamponi per l'autosomministrazione infatti c'è tanta gente che si verifica che verifica la propria condizione di salute e quindi come dire esce dal tracciamento se vogliamo dirla in parole povere e quindi però con senso di responsabilità si controlla per dire insomma non sono positivo quindi non sono contagioso e quindi e quindi si fa questo autodiagnosi per evitare appunto nel caso in cui risultasse positivo di rimanere in casa sette giorni o qualcosa di più dentro casa e sappiamo benissimo che dentro casa in questi giorni è un po' un problema parliamo di circa mille tamponi venduti al giorno una cifra considerevole che la dice lunga sul momento dell'ondata e sull'ondata estiva questa ondata estiva che insomma procede evitiamo tutti i commenti sul fatto che qualche anno fa con una popolazione zero vaccinate eravamo in estate senza senza contagi oggi con la popolazione italiana quasi completamente vaccinata invece siamo completamente punto e a capo e adesso giriamo pagina strage di Corinaldo processo fermo spunta pure il rischio di prescrizione questo è il titolo un difetto procedurale sulla società che gestiva la lanterna azzurra fa slittare l'udienza di tre mesi mentre il Corriere titola così sempre su questo argomento frena il processo ai colletti bianchi notifica assaltata in aula fra tre mesi rinvio dell'udienza sulle responsabilità colpose della strage alla lanterna azzurra l'incubo della prescrizione un'attesa logorante ma la verità è scolpita dice Giuseppe Orlandi che è il papà di Mattia uno dei giovani rimasti vittima della calca appunto all'uscita della lanterna che cascone grazie Pesaro questo invece è il titolo del uno delle due pagine del Carlino che si riferisce appunto alla inaugurazione del casco gigante a Pesaro ecco la fotografia con Valentino che posa con la V di Valentino di Vittoria sotto la sua fidanzata Francesca Sofia Novello questa città è la mia seconda casa detto Valentino Rossi la maxi opera arrivata da Riccione e il campione non trattiene un filo di emozione mi è piaciuto dice tantissimo cambiamo argomento pagina pagina 5 del Carlino Joe Blair accuse il poliziotto che lo identifica mi ha controllato perché ho la pelle nera la protesta dell'ex cestista dopo mi hanno detto va bene ti lasciamo andare perché hanno capito che ero il giocatore WL qui la fotografia nella fotografia il video per Instagram davanti alla lavanderia in alto invece quando giocava lo vedete in questa fotografia qua in alto insomma la domanda che si è posto nello sfogo sui social è se non fossi se non avessi anzi fatto giocato a basket allora sarebbe stato un problema non va bene così secondo appunto l'ex giocatore mentre il questore che si è appena insediato Raffaele Clemente dice da noi né maleducazione né pregiudizio ovviamente il dirigente difende i suoi uomini idemi il sindacato SILP della CGL procedura come se ne fanno a migliaia ogni giorno perché non vi incontrate perché non vi chiarite in qualche modo e Clemente dice mi rincresce abbia avuto questa percezione è evidente che è il frutto del suo vissuto adesso la pagina di Fano invece l'appello di serie collaboriamo con Marche Multiservizi il sindaco invita i comuni soci di Aset la società pubblica a fare fronte unico non preoccupatevi dice Seri nulla è ancora deciso poi parla anche di elezioni e dell'allarme della siccità dunque in questo articolo Diana Marchetti si parla del futuro dei servizi pubblici dove il sindaco Massimo Seri rilancia la collaborazione con Marche Multiservizi e invita al dialogo tutti i comuni soci di Aset quindi Pesero e la provincia fa riferimento anche alla uscita di Giovanni Carboni Giovanni scusate di Edoardo Carboni di noi giovani che ha suggerito al sindaco di convocare i sindaci soci di Aset e mettere al primo punto della discussione il dialogo la giornalista chiede lo farà lui dice ho apprezzato l'uscita del consigliere Carboni in questi casi serve il buon senso e personalmente ho sempre invitato tutti gli interlocutori a farne ampio ricorso in questi mesi non ho mai cessato di ribadire alla mia giunta e ai comuni soci Aset che quando si ragiona sulla strategia dei servizi pubblici si ragiona di sviluppo integrazione e coesione di un territorio e poi vabbè ci sono altri argomenti come abbiamo detto sia le elezioni ma anche il discorso della della siccità poi sulla cena invece dei veleni adesso non sto a spiegarvi cos'è la cena dei veleni perché altrimenti facciamo notte gli eccessi di politicizzazione vanno evitati e sicuramente non si possono fare sulla mia testa e poi sulla possibile candidatura dice in questo momento non ci sono le condizioni perché sono in gioco questioni importanti la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico si parla di Sant'Arcangelo e del Teatro Romano sblocchiamo i lavori eseguibili lo dice l'ex assessore Marcheggiani che chiede all'amministrazione di accelerare per non rischiare di perdere i soldi i fondi e poi sotto polegioni sui mancati rinforzi con parto sicurezza la situazione sta implodendo ormai ex ministro Lamorgese ha dimenticato Fano mentre sul progetto e direzione dei lavori del waterfront cioè il camminamento che si trova sul viale Adriatico quindi praticamente sul mare affidato l'incarico due architetti e uno studio di costruzione l'importo fisso è di 322 mila euro mentre sotto nuovo piano delle opere 112 milioni in tre anni in agenda dal rilancio della strada delle barche alla scuola materna di Carrara sul Monte Catra invece a proposito di siccità bestiame senza acqua ha chiesto l'intervento dei pompieri il sindaco Tagnani dice mi raccherò a verificare lo stato di salute degli animali si parla dunque di questa grave emergenza idrica nelle terre del Catria da ieri mattina che appunto è in forte difficoltà soprattutto per quanto riguarda l'abbeveramento del bestiame nel comprensorio montano l'azienda speciale consorziale del Catria è stata costretta a sospendere le attività ricettive e il sindaco di frontone Tagnani si è rivolto al comando di vigile del fuoco per il trasporto idrico appunto in montagna mentre da Fossombrone c'è stato ho letto anche un post sui social l'ex assessore che è stato urtato credo per la seconda volta da una macchina dice quella strada è pericolosa racconta la lunga attesa al pronto soccorso di Urbino Aldo Ciaffoni appunto l'ex assessore promotore del gemerlaggio con insomma una delle città gemellate con Fossombrone racconta di essere stato investito per fortuna di striscio da un'auto mentre attraversava la Flaminia da via Torricelli a piazza Dante praticamente il secondo incidente in 40 giorni e poi sempre da Fossombrone un cassonetto scaraventato giù per un pendio è la nuova moda delle notti brave dei ragazzini a volte vengono svuotati da Urbino invece la burocrazia lenta i progetti si fermano sono le parole della lamentela del sindaco Gambini che dice non sono andato alla riapertura della strada del furlo perché trovo inaccettabile che ci siano voluti 18 mesi per ripristinarla quando si taglia un nastro ovviamente è sempre festa ma in questo caso non andava tagliato affatto perché effettivamente 18 mesi per riaprire una strada voglio dire con tutti i difetti che hanno i cinesi che possiamo trovare i cinesi ma in questi casi vanno presi come modello come esempio fanno le strade in una nottata noi ci impieghiamo anni luce quindi voglio dire da qualche parte qualcuno dovrà pur rivedere un po' il modo di operare in Italia quando si parla di infrastrutture basilari come una strada vabbè qui si fanno in pieno giorno poi il sabato e la domenica ci si ferma perché giustamente devono riposare poi però c'è il traffico tutto bloccato si fanno questi lavori spesso in estate penalizzando poi il turismo e quant'altro insomma si fanno a volte senza ragionare e spesso con i piedi sempre dalla pagina di Urbino Corriere Adriatico nuova palestra alla Piantana alla Piantata no non faccio alcuna retromarcia è sempre Gambini che parla conferma la sua volontà di proseguire l'iter abbiamo già perso troppo tempo poi una brutta notizia perché si è spenta nonna Paolina aveva 103 anni a Fermignano tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia e ai nipoti ieri c'è stato l'addio la vedete qui e poi scintilla dal mezzo agricolo divampa il fuoco è successo a Carpegna dove il terreno un pezzo di terreno è andato in fiamme da Senigallia la cronaca non hai soldi per la discoteca rapina due ragazzi all'ingresso mi pare giusto uno non hai soldi cosa fa? rapina qualcun altro che ce li ha aggressione vicino al Mamma Mia denunciato un ventenne marocchino anche un disabile nel gruppo preso di Mira paura per un vasto incendio di sterpaglie anche nella provincia di Ancona da Barbara fino ad Arcevia il sindaco Pasqualini dice non gettate mozziconi di sigaretta Alma invece e questa è l'ultima pagina della nostra rassegna stampa una breve di sport per parlare del calcio fanese corsa per realizzare un centro sportivo la società Granata impegnata a presentare un progetto per un paio di terreni di calcio in sintetico nella zona del campo dei militari svolgere le attività della prima squadra e delle informazioni giovanili è questo l'obiettivo per lo stadio Mancini invece che è lo stadio in questo momento più importante che abbiamo a Fano ma insomma è quello che è gli interventi più consistenti sono rimandati a tempi migliori se arriveranno questi tempi migliori intanto gustiamoci questa nuova giornata di caldo pregando perché arrivi un po' di pioggia e allora ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia vi auguro una buona giornata e arrivederci Noi qui Grazie a tutti.